a me ma guardare descriviti in tre parola energico simpatico lo sapete come si uccide un orologiaglio? colpendolo muscoloso aschi? no pastore tedesco sei vergine? no capricorno e vuoi scopare? a casa mia è tutto pulito un asca sei bellissimo chi sei? balena oh Gesù Cristo ecco un nuovo vasco leggiamo un po' fai schifo sei un mostro rispondiamo io sono bellissima non c'è bisogno che tu mi faccia un complimento così brutto e sono anche forte mamma mi hanno scritto che sono un mostro aiuto non mettere mi piace più alle foto della mia ragazza sennò vedi che ti faccio si si è come guarda aschì nasch strani Non, arriva, arriva, arriva Clop Aspetta 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 No Le dico È umore Si ? Steve Cosa c'è? Cosa c'è?